Negli episodi precedenti abbiamo visto come creare un ramo e come lavorare su questo ramo andando ad aggiungere dei commit. Quindi nel nostro grafico vediamo che il ramo master ha due commit, la versione 1 e la versione 2, poi si è aperto un ramo e sono stati aggiunti due commit, la versione 2.1 e la versione 2.2. Ipotizziamo adesso che il softwareista abbia necessità di eseguire una modifica sulla parte del controllore e quindi ritorna sul ramo principale, esegue una modifica e crea un nuovo commit. Quello che vogliamo ottenere adesso è l'unione delle due modifiche, ovvero sia la modifica che abbiamo eseguito sul master ma anche il pannello operatore che esiste solamente sul ramo di sviluppo ECMI. Quello che dobbiamo fare è usare l'operazione di merge. L'operazione di merge permette di unire due rami andando a creare un nuovo commit su uno dei due rami. Nel nostro caso l'idea è quella di rimanere sul ramo master e andare a prelevare quello che è il contenuto del ramo di sviluppo ECMI, quindi portarci nel ramo master le modifiche che sono state fatte all'interno del ramo di sviluppo ECMI. Ok, andiamo a rivedere la situazione del progetto, quindi clicco al destro, mostra cronologia. Vediamo che siamo sul ramo development ECMI e abbiamo eseguito due commit rispetto all'ultimo commit di master. Quindi ad oggi master è sulla stessa linea di lavoro rispetto a development ECMI. In effetti master è uguale a un commit a cui development ECMI si riferisce. Come possiamo vedere la linea sulla colonna dei grafici è una linea dritta, quindi tutti i vari commit sono sullo stesso binario. Quello che vogliamo fare è spostarci sul ramo master ed effettuare una modifica lato controllore. Quindi torta sgit, switch e scelgo master. Ok, ricordatevi che questa operazione deve essere fatta senza modifiche pendenti. In quel caso avrà restituito un errore e sarà necessario eseguire o un revert o eseguire un commit per salvare le modifiche. Facciamo doppio clic e apriamo il progetto. Ora, guardando dentro alla pagina 0 del pannello non troviamo niente. In effetti siamo tornati sul ramo master in cui tutte le modifiche lato pannello non sono mai avvenute. Spostiamoci sul controllore e per esempio andiamo a modificare il programma 0 e la sezione 0. Andiamo ad inserire una nuova rang in cui andiamo banalmente ad aggiungere una seconda operazione. Quello che potremmo fare, oltre a questa modifica molto banale, è per esempio anche cambiare la configurazione EtherCAT. Quindi effettivamente abbiamo adesso un accoppiatore da dover inserire, quindi un nx-ecc203, lo inseriamo e all'interno vado a specificare che avrò una scheda di ingresso e una scheda di uscita. Quindi vado su digital input device e cerco, per esempio, vado a scegliere questa qua, la 5442, id5442 come ingresso e come uscita vado a specificare, scegliamo questa qua, l'od5256. Quello che posso fare ovviamente è anche associare le variabili di pulsante spia che avevamo creato in precedenza e che usiamo sul pannello operatore. Quindi vado nella mappa io, vado a scegliere il mio nuovo dispositivo nx-ecc203 e come ingresso associo il pulsante e come uscita associo la spia. Eccoci qua. Quindi eseguo un commit e ricordiamoci che siamo sul ramo master, infatti git commit master. Il progetto verrà salvato, va bene. Inserisco che cosa? Modificata sezione 0 con aggiunta pulsante 1, poi aggiunto nx-ecc203 con input e output. E poi vado anche a scrivere che ho associato variabili a io. Ok, giusto un esempio di come potrebbe essere un messaggio. In realtà potremmo specificare meglio e cambiare quello che è la modalità con cui iscriviamo questo commit. Magari specificando all'inizio della descrizione, se ci riferiamo al controllore o alla rete EtherCAT o al pannello NA. Quindi qua potremmo scrivere ECAT per dire che ci riferiamo a quello. Qua potremmo dire ancora ECAT per l'associazione delle variabili. Facciamo il commit. Il commit è andato a buon fine. Se adesso riapriamo la situazione della cronologia, qua adesso stiamo vedendo solo master, lo capiamo perché in alto c'è scritto master. Quindi stiamo perdendo adesso in realtà la visualizzazione di quello che è il progetto globale. In effetti vediamo che per master esiste aggiunte cemai NA5, che era l'ultimo commit, e poi il commit che abbiamo appena fatto. Ecco, se vado a cliccare su master e vado a scegliere l'altro ramo, posso vedere in realtà solo il ramo di sviluppo. Il ramo di sviluppo ovviamente non contempla questo nuovo commit. Per questo commit è riferito solo al ramo master. Posso vedere tutti i rami usando la spunta All Branches qua in basso. Ed ecco qua la nostra diramazione. Si vede molto bene anche dal grafico, quindi non abbiamo più tutti i commit presenti su una stessa linea, ma in realtà abbiamo una biforcazione da aggiunte cemai NA5. Questo è l'ultimo commit che è condiviso con tutti e due i rami, perché da questo punto in poi il master ha questo ultimo commit, invece il development cemai ha quest'altro. Ora possiamo procedere a eseguire il merge. Quello che vogliamo fare è, da master, prelevare, quindi aggiornare la parte delle cemai, prelevando le informazioni che sono state modificate sul ramo sviluppo development HMI. Per fare questa operazione consiglio di chiudere, clicco il destro, Tor twice git, e scegliamo merge. Ora, noi siamo sul ramo master, andiamo a scegliere il ramo development HMI da cui prendere le modifiche e diamo l'ok. Perfetto, l'operazione ha avuto con successo. Chiudiamo, guardiamo insieme la cronologia, e quello che ha fatto è stato proprio unire i due rami, creando un nuovo commit, e se apriamo il progetto, lato controllore, troviamo la nostra configurazione EtherCAT aggiornata, troviamo anche la mappa IO con le variabili associate, troviamo anche il programma modificato, e ovviamente anche lato pannello, troviamo le modifiche fatte sul pannello operatore, quindi pulsante SPIA, le variabili associate con il controllore.